cari figli come madre che conosce i suoi figli so che anelate a mio figlio so che anelate alla verità alla pace a ciò che è puro e non è falso per questo io come madre mediante l'amore di dio mi rivolgo a voi e vi invito affinché pregando con cuore puro e aperto conosciate da voi stessi mio figlio il suo amore il suo cuore misericordioso mio figlio vedeva la bellezza in tutte le cose egli cerca il bene perfino quello piccolo e nascosto in tutte le anime per perdonare il male perciò figli miei apostoli del mio amore vi invito ad adorarlo a ringraziarlo continuamente e ad esserne degni perché lui vi ha detto parole divine le parole di dio le parole che sono per tutti e per sempre perciò figli miei vivete la letizia la serenità l'unità e l'amore reciproco questo è quello che vi è necessario nel mondo di oggi così sarete apostoli del mio amore così testimonierete mio figlio nel modo giusto vi ringrazio ringraziamo la madonna per essersi degnato ancora una volta di appoggiare i piedi nella nostra terra e per donarci parole d'amore e di speranza il signore tocchi i nostri cuori e ci doni la pace vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore grazie 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 grazie